Cos'è? Performance? Performance sì Senta signora, posso? Non mi guardi così Questo è essere bagno uomini Sono Marina Abramovic Faccio arte contemporanea Sì, lo so però Non tutti possono fare arte contemporanea Decisamente Non tutti possono capire arte contemporanea Tutti però Possono pagare Per vedere arte contemporanea Questo è giusto, io non ho mai messo Io? Pagare io contemporanea? Performance